buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv grazie per seguirci e vi prego di sostenere il lavoro del nostro canale lo potete fare facilmente dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv barra sostienici abbonandovi piuttosto che mandandoci un contributo volontario e lo potete fare partecipando insieme a noi e iscrivendovi al nostro canale youtube e anche ai nostri canali alternativi che sono rambo e odyssey vi trovate cercando casa del sole punto tv siamo qui oggi a parlare di identità nazionale e di difesa dal grande reset e di cultura e di occidente lo facciamo con il nostro amico e professor giuseppe germano docente di letteratura latina medievale e umanistica all'università degli studi di napoli federico secondo buonasera giuseppe buonasera a tutti grazie per l'invito giuseppe abbiamo più volte parlato della transizione che stiamo vivendo e per meglio comprenderla viene da porti qualche domanda su ciò che chiamiamo occidente e su quella che è la nostra identità e se l'identità nasce e dipende dal linguaggio e dalle radici culturali perché stiamo togliendo il latino dalle scuole stiamo facendo fuori licei classici e dopo avere eroso gran parte delle materie scolastiche di studio abbiamo affidato i nostri giovani alle grandi aziende tecnologiche quali sono i valori occidentali e come possiamo difenderci da quello che in un film di un po' di anni fa di animazione la storia infinita definivano il nulla che avanza che forse in questa fase storica potremmo identificare con l'occidente e con la classe dirigente che abbiamo non è che stiamo diventando noi i barbari da civilizzare come abbiamo pensato di dover fare per 500 anni e fuori dai confini occidentali tra l'altro è una domanda interessante e complessa grazie Jeff di questa domanda anche o meglio di questo spunto di conversazione che però richiede sicuramente delle specifiche cioè quando noi parliamo di civiltà occidentale di valori dell'occidente generalmente noi partiamo sempre da un concetto diciamo così europa centrico noi occidentali diciamo così per dire così cioè noi che siamo eredi di questa civiltà che parte sostanzialmente dalla greciità dalla filosofia greca è arrivata al mondo latino e poi si è diffusa appunto attraverso i valori del medioevo il cristianesimo il sacro romano impero e poi tutto quello che è venuto dopo in realtà abbiamo la tendenza a fissare nella nostra civiltà un punto di arrivo della civiltà di tutto il mondo tant'è che poi questo questa tendenza europa centrica si è in qualche modo è andata al di là dell'oceano negli stati uniti d'america che pensano poi di poter esportare appunto la per dir così la loro democrazia con tutti i limiti e giochi di parole che ci sono sotto non voglio entrare nei problemi ma anche se fosse la la migliore delle 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 opzioni possibili anche se fosse vera questa 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 volontà di di esportare la la democrazia e i valori dell'occidente cioè comunque io mi sentirei di dire che innanzitutto dovremmo abbandonare questo questo punto di vista e dovremmo avere un maggiore rispetto per noi e per le altre civiltà perché in realtà la nostra civiltà cosiddetta occidentale è una delle grandi civiltà che si è sviluppata sulla superficie del nostro pianeta e che coesistono tuttora perché ecco noi abbiamo dei valori ma non possiamo certo dire che i nostri valori siano migliori o più importanti di quelli che si sono sviluppati in cina per esempio o nel in giappone o magari in altre non so nell'area slava della 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 russia che sicuramente condivide con noi certi certe scaturigini certe origini però comunque presenta anche delle differenze così come non possiamo neanche ritenerci migliori di quelle civiltà che noi come occidentali abbiamo poi ampiamente contribuito a distruggere e a cancellare dalla faccia della terra quindi partendo da questa premessa vorrei appunto innanzitutto sottolineare la la necessità di abbandonare questa visione europocentrica innanzitutto e poi diciamo la necessità di acquisire un maggiore rispetto delle culture che esistono e che continuano a esistere sulla superficie della terra e che tutto sommato sono sopravvissuti a questo impatto distruttivo che che appunto noi come con la col colonialismo del dei secoli scorsi e con quel colonialismo che in certi casi continua anche oggi poi come abbiamo visto ampiamente anche negli proprio nelle cronache degli ultimi tempi degli ultimi mesi ecco questo colonialismo dovrebbe nonostante il colonialismo certe civiltà sono comunque sopravvissute ora partendo da questa premessa devo dire che è importante che ciascuna civiltà conservi i propri valori nel nella tutela e nel rispetto di un multipolarismo multipolarismo culturale che secondo me è fondamentale per diciamo per una concorde coesistenza di tutti i popoli anche per conservare quella che è una diversità culturale noi ecco come tra virgolette come occidentali ci preoccupiamo molto della conservazione della biodiversità almeno a parole ovviamente cerchiamo comunque di di conservare le specie animali vegetali ci preoccupiamo dell'estinzione di questa quella specie anche se poi diciamo che ecco gli uomini il sapiens sapiens ha fatto di tutto per per estinguere per far estinguere numerose specie animali e vegetali proprio in ragione della sua sopravvivenza ma ecco al di là di questo dovremmo cercare di di conservare ecco la nostra identità è quella degli altri ecco perché anche nell'ambito della cultura si deve parlare di diversità e la la conservazione di questa diversità garantisce una reciproca crescita perché se sulla terra ci fosse un'unica civiltà un pensiero unico in realtà questa civiltà rimarrebbe chiusa in se stessa senza possibilità di confronti e finirebbe per incancrenirsi all'interno di se stessa questo accade naturalmente a livello potrebbe accadere a livello macroscopico se dovesse venir meno l'incontro scontro delle civiltà ma noi lo possiamo verificare quotidianamente a livello microscopico anche nelle nostre relazioni umane perché se noi ci chiudiamo in noi stessi o nell'ambito del nostro nucleo familiare o addirittura nell'ambito del di una forma di solipsismo cioè l'uomo che si chiude in se stesso l'uomo o il nucleo che non ha confronti con l'esterno confronti positivi o negativi che siano in realtà si nega la possibilità di crescere si nega la possibilità di migliorare si nega la possibilità di avere un rapporto dialettico con l'altro da sé quindi innanzitutto io penso che dovremmo valorizzare la diversità anche nel campo della cultura e quindi rispettare anzi fare in modo che le differenze culturali permangano perché la differenza culturale secondo me è l'unica strada che può portare a un confronto e a una reciproca crescita quindi questa è la prima premessa ora all'interno di questo ecco possiamo dire che sicuramente noi che stiamo diciamo così il frutto comunque gli epigoni di una di un grande movimento culturale che ha generato nel bene e nel male insomma una una un profondo mutamento nella cultura nel modo di essere di esistere di di tutto quanto questo pianeta dobbiamo cercare di tutelare questo patrimonio che abbiamo che abbiamo messo da parte che abbiamo costruito e la tutela di questo patrimonio passa sempre secondo me attraverso la conservazione e la valorizzazione delle nostre radici culturali ora con questo io non voglio dire che sia necessario sia imprescindibile studiare lingue classiche perché certo è una cosa che non l'hanno mai fatto tutti cioè certe certe radici vanno conservate sotto molti punti di vista cioè non è la radice non sta solo nel latino o nel greco ma sta anche nella cultura che queste che queste civiltà hanno poi hanno dato e con la quale hanno contribuito a formare la nostra quindi ecco questa volontà distruttiva dell'occidente questa questo desiderio di dissolversi secondo me che ha la nostra civiltà morente in qualche modo declinante ma questo lo diceva già spengler quasi ormai due secoli fa no nel nel tramonto dell'occidente questo questo libro che ha avuto un grande c'è un grande successo e ha fatto discutere di sé anche le grandi correnti filosofiche per esempio heidegger o anche altri diciamo diciamo il tramonto della nostra civiltà diciamo che pare che si stia realizzando proprio con questa passiva e supina accoglienza dell'aspetto tecnologico perché è come se ogni tipo di linguaggio ogni tipo di cultura ogni tipo di 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 azione intellettuale si debba ricondurre o disperdere nella tecnologia ma la tecnologia può essere uno strumento del nostro vivere può essere uno strumento della della nostra affermazione positiva all'interno del del nostro mondo ma non può essere tutto anche perché la la tecnologia ecco non non è un fine è un mezzo la tecnologia serve a ecco dovrebbe servire a rendere la vita degli uomini più facile dovrebbe servire a creare più tempo libero per per ciascun individuo e fare sì che la vita migliorasse nella sua qualità ecco vorrei ricordare brevemente cose che appaiono quasi scontate quando il lavoro nei campi ecco quello degli animali degli uomini è stato sostituito da macchinari ovviamente la vita dei contadini è diventata molto più semplice e anche l'agricoltura è diventata più produttiva ma quindi ecco il valore della tecnologia non può essere messo in dubbio così come non può essere messo in dubbio il supporto che può dare in diverse attività umane l'introduzione dei computers delle anche delle intelligenze artificiali però ecco voler ridurre tutto a questo o comunque voler ridurre i livelli di istruzione a una a una modalità di impartire delle competenze per regolamentare per e per gestire le le attività digitali questo mi sembra veramente riduttivo nei confronti dell'uomo che sarebbe ridotto a una sorta di pre macchina a una sorta di 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 schiavo utile a mettere in funzione a regolare il funzionamento delle macchine e poi a un certo che a un certo punto potrebbero anche finire per poter fare a meno anche del di questo input quindi ecco questa tendenza a ridurre i livelli di istruzione a questa a questa questo e partire delle competenze puramente tecniche lo trovo riduttivo e assolutamente contrario alla dignità dell'uomo perché perché innanzitutto l'uomo si differenzia da tutti gli altri animali almeno fino a questo momento e questo lo diceva già aristotele 2500 anni fa che metteva in ordine tutto il sapere a lui precedente per la facoltà razionale che si esprime attraverso il linguaggio cioè noi uomini condividiamo con le piante l'anima vegetativa cioè dentro di noi c'è qualche cosa che ci spinge a vivere che è comune alle piante e agli animali poi condividiamo con gli animali qualcosa in più rispetto alle piante c'è il condividiamo il mondo delle emozioni anche gli animali hanno delle emozioni esattamente come noi ma che cos'è che rende l'uomo veramente uomo diverso dalle piante diverso dagli animali è la capacità razionale questa capacità razionale che si esprime attraverso il linguaggio e quindi il linguaggio umano con la sua capacità dialettica non può essere ridotto ridotto al sistema binario di uno zero perché il nostro sistema diciamo di espressione è molto più complesso è un sistema che tiene conto anche del mondo vegetativo e del mondo emozionale è un sistema razionale che non può essere ridotto all'interno di una macchina e questo ce lo sta insegnando con la sua serie di conferenze in tutta età l'europa federico faggine l'inventore dei microprocessori l'inventore del touchpad un tecnico per eccellenza che ha cambiato il volto della tecnologia eppure lui sostiene a ogni peso spinto l'importanza della coscienza l'importanza l'unicità dell'uomo e la sua differenza rispetto alla macchina la sua irriducibilità alla macchina e alla tecnica quindi ecco chi più di lui ha diciamo così il oggi la la possibilità di esprimere questo concetto lui che ha avuto una così grande incidenza nel 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 mondo tecnologico propriamente detto quindi ecco il linguaggio ora la situazione in cui versiamo noi oggi è una situazione a dir poco drammatica perché perché questo approccio che viene gestito dall'alto anche dalle dalle grandi diciamo lobby della dell'organizzazione scolastica e universitaria che fanno capo a vari a vari centri ma sostanzialmente per noi tutto questo apparato parte dagli stati uniti quindi da oltreoceano e riceve perfino il supporto della compagnia di gesù dei gesuiti che insomma contribuiscono a questa a questa manipolazione dell'istituzione scolastica prevede appunto una riduzione drastica di tutte le discipline cosiddette umanistiche e un incremento delle discipline neanche scientifiche ma tecnologiche perché tutto sommato le discipline scientifiche rientrano in quelle umanistiche perché la matematica per esempio la fisica sono discipline che sono umanistiche perché richiedono l'impatto dell'intelletto dell'intelligenza la ricerca la sperimentazione e quindi io non le definirei come discipline tecniche ma le definirei come discipline umane scienze umane cosa che naturalmente infatti nascono con la filosofia nascono con la filosofia inizialmente sono legate cioè sono la filosofia che poi si sono si sono specializzate e anzi ti dirò di più ma nella costituzione classica e tardo antica e medievale della scuola le umane littere cioè le discipline umane cioè le arti liberali erano comprendevano anche le discipline scientifiche perché le arti liberali che sono sette teoricamente diciamo ufficialmente sono divise nelle discipline del trivio e del quadrivio quindi le prime il trivio è la è la è il fondamento del sapere ed è formato da grammatica dialettica e retorica dove per grammatica si intende la scienza della lingua non quello che noi definiamo grammatica quindi proprio la lingua la dialettica rappresenta la diciamo così la la logica quella che noi oggi chiamiamo logica quindi la capacità di mettere insieme i pensieri senza contraddirsi o comunque usando gli antimemi i sillogismi cioè i processi di ragionamento e la retorica rappresenta quella scienza che permette agli uomini di utilizzare oltre alla lingua e alla ragione quindi la logica anche i sentimenti per fare sì che la comunicazione abbia un maggiore impatto e una maggiore efficacia perché una comunicazione senza efficacia non è più comunicazione questo lo sanno bene i politici e quegli imprenditori che vendono cose e cose di questo genere quindi diciamo la base della della scienza è formata da questa triade di discipline ma le altre quattro del quelle del quadrivio sono diciamo così in geometria e aritmetica quindi geometria ovviamente la nasce come scienza della terra della divisione della terra ma è la geometria che noi conosciamo l'aritmetica si sviluppa poi come matematica come algebra come la scienza più sofisticata di oggi e poi abbiamo la astronomia astrologia che sarebbe la nostra cosmologia la fisica che noi chiameremmo fisica e poi l'ultima disciplina la più elevata di tutte è la musica che non dobbiamo confondere con la musica diciamo strumentale perché la musica strumentale solo l'ultimo aspetto di questa di questa disciplina regina di tutte le altre perché la musica in realtà è la scienza dell'armonia e l'armonia agisce in tutte le altre discipline tant'è che nel medioevo ma si 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 parlava di un'armonia che permea di sé il cosmo e quindi c'è un'armonia che governa innanzitutto il mondo degli uomini un'armonia umana quindi l'armonia che che collega l'anima lo spirito all'anima vegetativa e quindi la questa musica che viene c'è l'armonia del del nostro dell'unità del nostro corpo col nostro spirito poi c'è un c'è un'armonia mundana che sarebbe l'armonia c'è l'equilibrio il mundus sarebbe l'universo allora conosciuto quello tolemaico formato dal sistema solare e quindi l'armonia che governa il cosmo l'ordine del cosmo e poi c'è l'armonia celestis cioè l'armonia divina quella che che governa tutte le cose che via via emanando e scendendo sempre più nella materia arriva fino ai recessi più bassi dell'essere quindi ecco vedete la la musica non è quella che c'è quella che noi intendiamo come musica è solo un aspetto fisiologico quello che colpisce le nostre orecchie e quell'armonia che che si trasferisce attraverso gli strumenti alle nostre orecchie ma in realtà dovrebbe interpretare quella che è l'armonia divina che poi diventa armonia cosmica e poi diventa armonia psicologica questo vi fa anche capire perché oggi vada tanto di moda e tanto per la maggiore una musica stridente musica diciamo così senza più armonia perché questa musica senza armonia è una musica che incide profondamente sull'animo umano e lo scinde scinde la sua unità col corpo e fa sì che noi perdiamo la percezione della nostra unità della nostra divinità quindi dovremmo stare molto attenti a quello che noi ascoltiamo perché in realtà la musica l'armonia è un diciamo la vibrazione all'interno della quale noi siamo immersi incide profondamente sul nostro stato emotivo esistenziale razionale cioè incide su tutto e questo vedete gli uomini del medioevo che noi diciamo così pensiamo che fossero dei primitivi lo capivano molto meglio di noi cioè noi che crediamo di essere superiori a loro in realtà ci facciamo turlupinare tranquillamente e non riusciamo più a percepire quello che loro invece percepivano perfettamente a chi di noi non è capitato magari di andare in discoteca e di tornare a casa fra stornati perché la musica della discoteca ci ci colpisce dentro la pancia ma ecco questa musica che ci colpisce dentro la pancia che cosa fa muove i nostri istinti più bassi non mette in movimento le nostre percezioni nostre vibrazioni più alte quelle che si sviluppano diciamo così nelle sfere della del cuore della comunicazione del nostro rapporto col divino indipendentemente dalla religione che noi professiamo non professiamo perché comunque penso che possiamo condividere con la maggior parte degli uomini la percezione che esiste comunque qualcosa di superiore rispetto a noi e quindi ecco questo apparato questa costruzione diciamo così pedagogica che era ovvia e che era diciamo così alla base dell'educazione medievale è arrivata fino alle soglie del nostro tempo ed è stata poi in qualche modo adattata alla modernità dalle riforme di gentile del secolo scorso oggi via via soprattutto a partire dal 68 ma anche dalla riforma germini ancora più nella scuola e nell'università è stata completamente destrutturata per cui oggi non si dà più importanza a questo tipo di struttura e alla costruzione di questo apparato che dovrebbe servire a ricostituire o meglio a costituire a formare l'individuo nel suo rapporto con se stesso col cosmo e col divino quindi l'educazione dovrebbe dare questo la tecnologia è una cosa che si può apprendere lo apprendono anche i bambini a tre anni smanettando con il telefonino con il cellulare o con un tablet non abbiamo bisogno di apprendere queste cose in una scuola la scuola dovrebbe formare ben altro ma veniamo andiamo ancora avanti perché dalla diciamo il tuo il tuo la frase con la quale ha introdotto questa questa nostra conversazione parlava propriamente di linguaggio e io prima dicevo noi siamo messi veramente male perché siamo messi male perché io vivo nel mondo dell'educazione perché insegno all'università da me arrivano ragazzi già formati però io ho un sacco di di ex colleghi di università che insegnano nelle scuole a vari livelli a volte ci ci confrontiamo a volte anche ci sono gli sfoghi che si leggono attraverso i social di colleghi che insegnano nelle scuole nelle medie inferiori nelle medie superiori la cosa che poi ci sono anche le percezioni che io stesso ricevo dalle mie esperienze con ragazzi dai 18 ai 22 23 anni no la cosa che io sento di più e percepisco di più anche come grave è l'assoluta mancanza nei ragazzi di una varietà del lessico e non solo ma anche l'incapacità di costruire facilmente un pensiero logico diciamo così che arrivi a una conclusione diciamo così non contraddittoria cioè per i ragazzi è sempre più difficile esprimere dei concetti non contraddittori è sempre più difficile esprimere dei concetti allora dato che l'uomo si differenzia dagli animali per la sua capacità razionale che si esprime attraverso il linguaggio e ponendo base a una cosa di cui abbiamo discusso anche in altri in altri nostri incontri che il linguaggio è quello strumento attraverso cui ciò che è inconscio dentro di noi ciò che è oscuro dentro di noi viene portato alla luce della ragione e solo il linguaggio può fare questo perché si serve appunto della logica dell'emozione della simbologia dei concetti nel momento in cui si impoverisce il linguaggio noi non riusciamo più a esprimere la nostra natura propriamente umana cioè non riusciamo più a esprimere il ragionamento non riusciamo più a esprimere quello che desideriamo e tutto sommato se ci pensate questa grande questo grande scoppio di violenza che a cui assistiamo nel nostro mondo occidentale ormai in declino e morente in parte può essere anche dovuto all'incapacità che le persone hanno di comunicare concretamente perché quando una persona ha un impito di emozioni e non riesce a far venire fuori quello che sente all'interno come fa si comporta come bruti cioè gli animali che fanno cioè i cervi si scornano fra di loro e che ne so e c'è si arriva a uno a uno scontro manesco cioè abbiamo abbiamo visto anche nella cronaca di questi ultimi mesi che magari per un posto auto per un per un motorino collocato in un posto piuttosto che in un altro alla fine si è arrivati a un omicidio ma se anziché arrivare a un omicidio le due persone si fossero chiarite parlando e esprimendo dei concetti probabilmente non si sarebbe arrivati all'escalation che avrebbe poi portato alla colluttazione e all'omicidio quindi al di là di tutte le cose anche l'incapacità di comunicazione contribuisce all'escalation di violenza e quindi capite bene questo che cosa significhi ora quindi io penso che l'istruzione dovrebbe potenziare la l'acquisizione lessicale quindi di parole cioè noi dovremmo essere in grado di di esprimere attraverso la parola tutti i concetti di cose fatti emozioni che noi viviamo nella nostra vita e quindi questo si può ottenere solo con una varietà lessicale non possiamo vivere con 200 parole delle quali magari 50 sono anche cattive parole che significano tutto e il contrario di tutto non so se rendo l'idea e quindi ecco potenziare innanzitutto il lessico potenziare la capacità diciamo logica attraverso appunto quella che un tempo si chiamava dialettica la capacità logica si sviluppa attraverso l'uso della lingua e delle sue capacità sintattiche nelle nostre lingue occidentali un po' con l'incontro con l'inglese ma non tanto con l'inglese classico con l'inglese commerciale con l'inglese tecnologico si sono tutte impoverite io non parlo solo dell'italiano ma tutte le lingue occidentali hanno ridotto la loro capacità logico espressiva questo è chiaro da anche da fatti proprio obbi se voi leggete per esempio un romanzo che è stato prodotto immediatamente dopo la guerra e leggete un romanzo che è stato prodotto oggi notate subito la differenza nel romanzo di metà secolo scorso abbiamo un fluire delle proposizioni abbiamo la subordinazione accanto alla coordinazione delle delle proposizioni abbiamo un impianto logico oggi invece ci sono brevi frasi diciamo così accostate le une alle altre e che non non sono più connesse fra di loro con un pensiero che si sviluppa ma con come se fossero la rappresentazione di uno sguardo che vede le cose senza le loro connessioni intime questo è gravissimo perché questo impoverisce la nostra capacità di percepire il mondo perché nel momento in cui noi non siamo formati alla logica non siamo formati alla complessità in realtà perdiamo la possibilità anche di percepire il mondo nella sua complessità e quindi il mondo ci appare più semplice di quello che certo vediamo più le sfumature non vediamo più le sfumature esattamente non possiamo neanche più giudicare quello che ci viene propinato non possiamo più capire se qualcuno ci sta imbrogliando se qualcuno ci sta dicendo la verità perché certo non tutti possiamo sapere tutto ma io vorrei sottolineare una cosa la persona che ha sviluppato uno spirito critico attraverso un potenziamento del linguaggio è in grado di capire se è una persona che ci parla ci sta dicendo la verità se sta usando un metodo oppure se ci sta imbonendo e invece oggi questa capacità sta avvenendo meno io credo con una precisa volontà per fare in modo che le persone non possano più agire con lo spirito critico ma possano subire di tutto ma vedete poi un'altra cosa particolare che voglio condividere con voi si sta abolendo l'uso del diciamo lo studio del latino e del greco le lingue antiche al di là di rappresentare le radici della nostra civiltà occidentale che naturalmente ribadisco è una delle civiltà di questo mondo quindi va tutelata così come tutte le altre proprio per la sua originalità per la sua originalità ecco la sparizione dello studio di queste lingue ha significato anche in qualche modo un'ulteriore semplificazione dei movimenti di pensiero io una cosa che ho sempre notato in qualche modo mi ha sempre stupito è questa se la lingua col suo apparato logico è la rappresentazione ed è anche in qualche modo il motore dello sviluppo dell'intelletto umano e dell'evoluzione dell'uomo la logica vorrebbe che noi oggi dovremmo utilizzare una lingua più complessa di quella dei nostri antenati e invece se noi andiamo a valutare la lingua il latino il greco poi le lingue romanze la lingua che si la lingua italiana di dante di petrarca di boccaccio di machiavelli poi quella degli autori del secento quello dell'ottocento arriviamo fino a oggi in italia così come negli altri paesi perché questo non è un fenomeno solo italiano del mondo occidentale quello che noi percepiamo è che c'è una progressiva semplificazione della sintassi delle modalità di pensiero quindi anziché diventare più complesso il pensiero si semplifica i linguisti parlano di legge del minimo sforzo io però ho domandato ai miei colleghi linguisti e glottologi ho fatto una domanda un po provocatoria ho detto ma se la lingua diciamo procede di pari passo con lo sviluppo della civiltà umana per quale motivo la nostra civiltà occidentale nasce con una lingua così complessa duttile e ricca come il greco che poi si trasferisce nel latino che è una lingua più diciamo rozza che poi però si plasma su quella greca acquisisce l'altezza di cicerone di virgilio di quintiliano dei filosofi della 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 latinità e poi del medioevo e oggi invece assistiamo a una semplificazione del pensiero una semplificazione di tutto cioè com'è la civiltà arcaica nasce con una lingua complessa e poi quella moderna che vuole essere migliore di quella precedente non ha più la potenzialità di questa di questa lingua antica cioè quasi mi verrebbe fatto di pensare che la lingua fosse come dicevano gli antichi fosse stato veramente un dono prevenuto dal cielo che poi noi abbiamo inquinato e abbiamo e abbiamo dilapidato in qualche modo insomma è un mito ma comunque leggiamolo un po come vogliamo ma ecco questa è una cosa sul sulla quale meditare ecco noi se volessimo veramente evolverci dovremmo fare sì che la nostra lingua si evolvesse o comunque dovremmo fare sì come minimo di conservare degli standard e allora ecco lo studio delle lingue classiche quantomeno ci mette di fronte a dei fenomeni che potrebbero farci porre delle domande e cercare farci cercare cercare di capire cosa effettivamente siamo noi cosa erano gli antichi cosa significa questo divario tra mondo antico mondo di mezzo medioevo quello che si definisce tale è il mondo mondo presente cioè qual è realmente questa differenza ma siamo veramente così migliori come pensiamo come noi pensiamo rispetto a quel mondo veramente la nostra civiltà è uno sviluppo positivo noi viviamo nella nella nell'illusione che la storia si sviluppi solo in con una sorta di miglioramento cioè che avanzi ma siamo sicuri che la storia ci porta veramente avanti e invece non ci porta con dei processi a spirale un po come diceva giambattista vico e quindi magari si va avanti poi si torna indietro poi si va avanti magari su un gradino su un gradino più elevato come una spirale non siamo forse noi in questo momento di retrocessione perché noi ecco non solo neghiamo il valore delle nostre radici e quindi cerchiamo di le disperdiamo ma non siamo neanche più in grado di giudicare noi stessi perché perdiamo i termini di confronto e quindi alla fine finiremo ecco come dicevi tu come suggerivi tu all'inizio di una sorta di barbarie e quindi questa per 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 stare in modo che questo non accada noi dovremmo cercare con ogni forza di mantenere accesa questa fiaccola della cultura io veramente ho una sensazione e credo che sia più di una sensazione insomma che le nostre elite dominanti distruggano diciamo così gli apparati di istruzione del popolo quegli apparati che sono serviti per decenni nell'ultimo secolo e mezzo anche come come mobile come mobilità sociale perché chi si istruiva finiva poi per acquisire la possibilità di scalare diciamo così appunto la società e di arrivare anche ai massimi livelli partendo magari da da una situazione non elevata non è che le le elite ci vogliono riportare alle servitù della gleba cioè per cui il popolo deve rimanere fisso nella sua ignoranza però loro le loro scuole se le fanno come si deve cioè non so se rendo l'idea e il sospetto è forte giuseppe molto il sospetto è forte quindi noi altri dovremmo cercare di pretendere dalla politica che la diciamo così la un adeguamento dell'apparato culturale non dobbiamo anche anche come genitori credo dobbiamo andare incontro agli insegnanti cioè non dobbiamo proteggere l'infingardaggine dei ragazzi che ogni ragazzo cerca di evitare la fatica però la fatica la disciplina la l'applicazione a qualcosa è fondamentale per la crescita dell'individuo perché altrimenti diveniamo come come degli animali diveniamo come degli individui bruti che non non sono più capaci neanche di vivere perché io lo vedo all'università io vedo ragazzi di 22 23 anni che sono incapaci di gestire la proprio vita la propria vita addirittura nel quotidiano con delle famiglie alle spalle che tolgono loro ogni autonomia e credendo di fare il loro bene allora sì i ragazzi devono sicuramente badare alla relazione con gli altri lo sport però lo sport le relazioni sono qualcosa che deve essere insieme con la cultura non che il genitore va a scuola e schiaffeggia l'insegnante perché l'insegnante ha messo una nota negativa o un voto basso al proprio ragazzo che è un genio perché i ragazzi diventano geni non sono geni e se soprattutto se i ragazzi non si dedicano un quote di ore quotidiano allo studio ma come possono diventare non dico geni ma avere quelle minime capacità per sopravvivere in una società che diventa sempre più una giungla in cui c'è qualcuno che è lì pronto che ci vuole ingannare a partire dal marketing del supermercato dal venditore porta a porta o dalla mail di phishing che ti arriva sul computer e allora è vero che quello che dice qualcuno che il problema sta un po' anche nella rivoluzione copernicana della scuola che c'è stata un paio di secoli fa e poi increscendo e che ha voluto per forza mettere al centro il ragazzo lo studente pensando di non dover più trasmettergli dei saperi ma semplicemente aiutandolo e accompagnandolo in una crescita naturale che non credo che funzioni così ci vuole ci vuole lo studio forse ci vogliono tutte e due le cose ma sicuramente ci vuole lo studio allora io credo che la grande rivoluzione dell'educazione sia partita nel nostro rinascimento in cui appunto si è posto nuovamente l'uomo e la sua dignità al centro quindi per carità l'educazione medievale con le fruste o con le mnemotecniche sono inutili cioè noi ecco nella grande pedagogia italiana che l'italia ha insegnato la pedagogia all'europa e al mondo occidentale attraverso i suoi umanisti e prendeva cioè aveva al centro l'idea della dignità dell'uomo la dignità dell'uomo significa che l'individuo deve sviluppare le proprie capacità secondo i propri talenti allora il maestro, la scuola deve individuare i talenti di ciascun individuo e indirizzarlo ma all'interno di questo indirizzo l'impegno, la disciplina sono fondamentali perché oltretutto se una persona viene indirizzato a mettere a frutto il proprio talento sicuramente studia con interesse, studia con desiderio perché naturalmente si mette sulla strada che gli piace si appassiona si appassiona quindi ecco sicuramente dovremmo avere una scuola nella quale gli insegnanti devono essere capaci di appassionare i loro studenti però intanto bisogna prevedere una base generale di cultura per tutti quindi cultura linguistica, cultura scientifica cultura umana, arti liberali cioè quelle arti che sono degne dell'uomo libero non dello schiavo perché il significato della parola, dell'espressione arti liberali sono quelle arti degne dell'uomo libero dell'uomo che costruisce la propria libertà e che sono arti non tecniche perché le arti tecniche addirittura da queste arti liberali era addirittura esclusa l'architettura, la pittura, la scultura perché erano interpretate come tecniche perché bisognava usare le mani le arti liberali sono quelle che sviluppano l'intelletto con questo non voglio dire che le arti che sviluppano la capacità manuale siano inferiori ma non sono liberali cioè appartengono a un altro tipo di cultura che pure l'uomo deve sviluppare perché noi siamo un insieme quindi ecco accanto alla razionalità dovremo anche sviluppare la manualità ma è evidente che alcuni di noi sono più indirizzati per realizzare qualche cosa sul piano della razionalità e dell'intelletto altri invece a sviluppare più l'aspetto manuale che non è che non richieda intelligenza o non richieda lo sviluppo dell'intelligenza perché l'uomo nasce come Faber cioè l'uomo sapiens è anche Faber perché se non fosse stato Faber non avremmo costruito la nostra civiltà umana a parte quella occidentale quindi ecco la scuola perfetta dovrebbe cercare innanzitutto sarebbe quella di tipo platonico cioè lo Stato dovrebbe essere è un'utopia ovviamente però uno può cercare di realizzarla anche se non la realizza in pieno dovrebbe cercare di capire le capacità dei singoli individui indipendentemente dalla provenienza della famiglia cioè da una famiglia in cui il papà è medico non è detto che il figlio debba fare il medico perché potrebbe fare tutt'altro potrebbe anche desiderare di lavorare la terra e fare l'imprenditore dell'agricoltura che è una cosa comunque bellissima e fondamentale per la nostra società invece noi purtroppo ci siamo un attimo incancreniti in questa abitudine di mantenere all'interno delle famiglie certi standard che diventano standard diciamo economici standard di potere personale che non sono utili alla società perché alla fine si creano classi di medici che non sono interessati alla medicina e che ammazzano i loro pazienti giuristi che non sono in grado di capire a fondo la legge che quindi diventano cattivi giudici o cattivi avvocati e così via cioè alla fine è uno sfascio totale quindi lo sfascio a cui stiamo assistendo noi in questa nostra civiltà occidentale che io non so se accada poi lo stesso anche in altri ambiti però sicuramente su questa terra ci sono delle civiltà in ascesa attualmente che stanno vivendo un momento diverso rispetto al nostro e ci sono le civiltà in declino ahimè noi siamo quelli in declino ma siamo in declino perché in qualche modo siamo venuti meno a quello che è il compito dell'uomo in qualche modo ci siamo indeboliti perché viviamo vorremmo vivere tutti in un lusso sfrenato senza renderci conto del costo di questo lusso quindi ecco humanitas significa anche capire il valore della dignità dell'individuo e cercare di contribuire al benessere di tutti e non solo a quello del proprio orto e quindi bisognerebbe sviluppare una coscienza superiore una coscienza umana in senso proprio che è poi quella anche che ci è insegnata nei Vangeli quella che fosse applicata realmente è quella che viene comunque propugnata dalle grandi correnti filosofiche purtroppo ecco noi prima di tutto dovremmo renderci conto di essere malati cioè la nostra civiltà dovrebbe rendersi conto della propria malattia cosa che non accade perché l'Occidente solo in alcuni picchi di intellettuali si accorge del proprio malessere ma per lo più ciò non accade quindi innanzitutto il malato deve capire di essere malato poi bisogna applicare la cura ma se il malato non capisce di essere malato a un certo punto un giorno muore perché vuole continuare a vivere con le sue cattive abitudini ecco se noi abbiamo il colesterolo il dottore ci dice non mangiare più i formaggi cose di questo genere però noi abbiamo due scelte continuare a mangiare ciò che ci fa male e peggiorare sempre più o a un certo punto farsi un esame di coscienza e dire ma io come voglio vivere voglio vivere più sano voglio vivere meglio allora devo applicare dei rimedi ma il rimedio ecco dal principio può essere doloroso però va applicato se noi vogliamo recuperare la salute la nostra civiltà è un corpo malato che deve recuperare la propria salute allora abbiamo davanti due possibilità la morte e quindi da cui poi sicuramente si genererà una nuova vita oppure la guarigione la guarigione attraverso un processo che porta poi a una crescita e a una rinascita comunque però senza attraversare il dramma della morte che prevede anche di predisporci a imparare dagli altri anche dalle altre culture a imparare umilmente non prevaricare perché noi ecco siamo stati educati alla prevaricazione come se noi fossimo i migliori di tutti e come se non ci fosse altro modello che il nostro nella politica nella cultura nella ricerca scientifica nella lingua addirittura si vorrebbe imporre la lingua inglese in tutto il mondo ma ci sono lingue per fare un esempio banale il popolo cinese ha una mentalità che si esprime nella sua lingua se noi ai cinesi imponiamo la lingua inglese non saranno più cinesi avranno perso la loro identità proprio di formazione del pensiero così come la stiamo perdendo noi noi non siamo più come i latini non siamo più come Cicerone non siamo più come Platone non siamo più come Sant'Agostino perché siamo venuti meno alla complessità che ha generato il nostro occidente la nostra civiltà se noi rinunciamo a quella complessità rinunceremo a noi stessi e quindi saremo prevaricati e per fare un po' di ironia come diceva Giorgio Gaber a noi ci hanno insegnato tutti gli americani se non ci fossero gli americani andrebbe a finire che saremo europei infatti infatti ma con questo non vogliamo dire che l'Europa sia migliore di questo o di quello abbiamo però un'identità e questa identità va tutelata perché ha sviluppato pensieri come Kant per esempio Sant'Agostino ha sviluppato ecco tecnologie ha sviluppato altezze letterarie poetiche e quindi artistiche grande altezze che le altre culture hanno guardato e da cui hanno saputo imparare ma anche a queste culture abbiamo guardato anche noi e abbiamo imparato queste culture pensiamo semplicemente a quando l'Europa occidentale si è incontrata con la cultura dell'Oriente il buddismo nell'Ottocento non so pensate a Hermanesse fra fine Ottocento e inizio Novecento che è l'ingresso oppure a Jung la psicologia di Jung che è tutta intrisa di sapienza cinese e buddista cioè ecco anche l'Occidente attraverso il confronto è cresciuto però adesso pare che questa crescita in qualche modo si sia bloccata perché abbiamo pensato di essere migliori e che nessuno ci può superare che noi dobbiamo imporre il nostro sistema economico di credenze filosofico politico agli altri come se gli uomini fossero tutti uguali ebbene no io sono convinto che gli uomini non sono tutti uguali viva Dio la bellezza sta nella differenza e quindi noi non siamo tutti uguali non siamo tutti uguali come individui abbiamo diverse inclinazioni abbiamo diverse capacità ma siamo tutti uguali per dignità la dignità quella sì quella è uguale quindi noi dobbiamo potenziare il rispetto della nostra e dell'altruidignità ma dobbiamo anche riconoscere la nostra diversità ed essere gioiosi che esista questa diversità perché la crescita avviene attraverso il confronto delle diversità non attraverso la massificazione le macchine sono tutte uguali e svolgono tutte la stessa funzione e noi non possiamo ridurci a macchine non possiamo impoverire la nostra lingua la nostra capacità logica in nome di che cosa? rivendichiamo rivendichiamo le nostre radici e la nostra lingua anche e ricominciamo a studiarla perché altrimenti non ci potremmo difendere da ciò che le nostre lingue ecco anche la diversità delle lingue le nostre lingue le nostre lingue perché anche la diversità delle lingue è fondamentale già nell'antichità gli uomini sapevano che si hanno tante anime quante sono le lingue che si conoscono che significa questo? questo lo può provare ciascuno di noi che ha avuto un contatto abbastanza approfondito con una lingua diversa dalla lingua madre si rende conto che nelle altre lingue ci sono dei concetti inesprimibili nella propria per cui è come se si acquisisse un'altra anima un'altra un'apertura del pensiero quindi ecco quindi coltivare la propria lingua l'ampiezza della propria lingua ma guardare anche al diverso da sé magari approfondendo altre lingue perché approfondire un'altra lingua significa approfondire un'altra cultura significa approfondire un'altra capacità di pensiero significa acquisire una nuova sensibilità e solo attraverso questo noi possiamo sviluppare il rispetto perché nel momento in cui ci rendiamo conto che esistono le diversità e ci rendiamo conto dell'importanza di queste diversità ecco che si sviluppa poi il rispetto e il concetto della bellezza dell'armonia delle diversità Giuseppe grazie grazie ci aiuti sempre un po' a ricomporre il quadro che è sempre confuso perché le cose vanno avanti molto veloci no grazie a voi dell'invito ci rivediamo presto sicuramente grazie grazie ancora grazie per averci seguito e ripeto l'appello potete sostenere il lavoro del nostro canale dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv barra sostienici o con un abbonamento o con un contributo e ci potete sostenere anche iscrivendovi al nostro canale su youtube e sui nostri canali indipendenti Rumble e Odyssey e continuando a partecipare con noi grazie e arrivederci alla prossima volta grazie a tutti